Benvenuti a Pilates Flow 10. Da dove arrivano, da lì ripartono. Inspiro e fuori l'aria invece scendendo le dita si allontanano il più possibile dalle spalle ad ogni istante. Andiamo a divertire, ci fermiamo alla respirazione, ci fermiamo al movimento di inspirazione, fuori l'aria salendo. Inspiro scendendo, da dove arrivano, da lì ripartono. Super lentezza, sempre più lento. Grazie. 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 Quello che vado ad agganciare, lo mi invento, la pallina, lo spazio c'è, la vado a portare un passo con la pallina, gli addominali che si attivano, il soleno, la discesa, inspiro fuori l'aria, salto contratti, l'ultima è la pallina, la pallina è mollata e poi inspiro fuori l'aria, pallina agganciata, roll down. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Gli ultimi due momenti, l'occhiato, l'occhiato, l'occhiato. Grazie a tutti. Il prossimo, le gambe distese, metteremo più in crisi tutta la catena cinetica posteriore, più contro l'addominale, quindi più consapevolezza. Grazie a tutti. 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 Torno indietro, mi fermo a metà, mano e inspiro, fuori l'aria del trago, guardo terra, inspiro, fuori, passiamo. Torno indietro. Torno indietro, fuori l'aria, scavole dentro, inspiro, fuori, inspiro. Torno indietro. Torno indietro. Torno indietro. Torno indietro. Torno indietro. Luoldo indietro. Torno indietro. Torno indietro. avanti, indietro, a terra, seduti sul tappetino. Molto vicini al porto del tappetino, le gambe flesse, i piedi in appoggio sul pavimento, retroversione del bacino, osso sacro, corso, testa, da qui la respirazione diaframmatica, e inspiro, gonfio la pancia, inspiro la pancia, fuori l'aricone che si gonfia, simula, trova a fare lo sbadiglio, quando entra l'aria, sbadigliando, entra dalla bocca, per vado a cercare la stessa situazione, ispirando con il naso. Per riconoscere la pancia che è naturale nella respirazione, andiamola a cercare. In questa prima parte, ancora prima di attivarci con la powerhouse, iniziale, gli effetti più tecnici, continuando a respirare con la pancia che si gonfia, inspirando fuori l'aria di aframma, quindi che mi muove, spinge e libera i colmoni, andiamo, inspirando, a salire verso il soffitto delle brazze parallele, fuori l'aria, continuando, pregito sul piano sagittale, inspiro, fuori l'aria, ancora sul piano sagittale, in, senza soluzione di possibilità, continuando qui, sempre in, e intratto, un altro piano sagittale, un altro piano sagittale, un altro piano sagittale, Grazie. 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 Attivo. Metto la mano sulla pancia. Faccio un piccolo di ritorno. Mi sento quanto si attiva e lo mantengo. Quanto si attiva e lo vengo da qui fuori dall'alimento, aggancio alla pallina. E poi la chiusura costrui sul fascino. Inspiro, ritorno. Ma è tesissimo anche nel ritorno. Fuori dall'alimento. Inspiro, freno e ritorno. Fuori dall'alimento. 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 fuori, ispiro, levitezza, fuori, il colo sulla sentiera non c'è a un certo punto, allora sovrappongo le mani, le metto dietro anche il commiting fuori. Andiamo avanti. Sarà a voi fermarvi due o tre volte, fare delle piccole pause quando gli addominali sono affaticati, sento fatica, non ce la faccio più, o quando la bassa schiena inizio a lavorare, sento che, al posto che senti solo attivi gli addominali, entra coinvolgo anche la bassa schiena. Quindi, con la prima variazione, salgo con il busto, mentre salgo, striscio con piede, tallone per terra, fuori e parte l'alto, poi fuori, ritorno. lento, lento, lento. lento, lento, lento. Tutte e due le gambe che strisciano, tutti e due i piedi che strisciano, bellissimo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Le gambe rimangono distese, scendo e salgo con il busto lentamente, non è ancora un molleggio, ve lo chiederò fra poco. Le gambe rimangono distese, scendo e due i piedi che strisciano, bellissimo. Il molleggio, se volete, la parte finale è questo piccolo, 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 up and down, up and down. Sono gli addominali, la testa è comoda, cambio sovrapposizione delle mani, dai, cambio l'un altro dell'altro, sembra più scomodo ma devo andare a bilanciare un po' tutto. dai. Ancora 4x4 al massimo, ogni 4 domandatevi. Posso andare avanti, ce la faccio? Questa schiena è ok? Gli addominali stanno soffrendo? Grazie a tutti. 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 Sono sempre ben distese al lineare, braccio a sovrapparci, i talloni incollati a terra, le punte dei piedi sono in attengazione. Al verso l'interno, puntano il piede perpendicolare al tallone. un bacio che si non chiama, non è l'inspiro Grazie 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 Come incremento, rimaniamo per un respiro e fuori d'aria riferimento per un altro respiro dall'altra parte anche poi abbiamo detto va in completa rimango per due respiro a destra e due respiro a sinistra il nostro incremento finale rifermate quando siete al massimo una piccola pausa l'avete fatta qualcuno l'ha già fatta bravi sì ad oltranza grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Si distende con una X, bravissimo, pancia e si confia, inspirato, bene. Si distende con la X, bravissimo, pancia e si distende con la X, bravissimo, pancia e si distende con la X, e si distende con la X, bravissimo, pancia e si distende con la X. Grazie. 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 Ora le mani rimangono ferme lì, solo una gamba e poi l'altra, fuori l'aria, ritorno. Grazie. Non fare cose strane, un braccio e una gamba insieme. Grazie. 8 volte a frena e poi recuperiamo sedendoci sui talloni. Braccio e cammini. Siete. 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 facciamo un lunghissimo ma pausate la metà magari lunghissimo lavoro, piramidate due distensioni, braccia e capa per il posto due e due, il resto è due stessi poi 4 e 4, 6 e 6, 8 e 8 8 e 8, 6 e 7 10 e 10, 8 e 8, 6 e 6, 4 e 4 arriviamo a 10, da 2 a 10, da 10, da 2 verso la sinistra allora, 2 2, 2 2, 2 quando si è condiviso da gamba la forza gamba sì, la mano deve toccare il gioco 2 e 4 mi prendi da 4 se vuoi sì, la mano deve toccare il gioco 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 Grazie. 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 Quarto. 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 Grazie. Poca roba lì. Spiro. 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 Quarto. Sei volte per ogni lato. Sei volte per ogni lato. Poi quattro e quattro. Poi due e due. E poi. Guardo la mano che va. Sei quattro e due. Sei quattro e due. Poi. 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 La pancia che si gonfia inspirando. 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 La pancia che si gonfia inspirando.